bentornati in un nuovo episodio dei cicles oggi siamo con un ospite orientale viene dall'oriente viene dall'oriente non ti posso non sei credibile con questa maschera sembri omiatol a romix il 2016 all'oriente con furore allora oggi siamo con chi presentati un attimino con marco ciao ragazzi grazie mille per avermi invitato per me è stato un po un problemino perché ho detto oggi vado al podcast con marco e mia madre ma quello lì ci ha avuto sì è un omonimo copia se incontro ancora un marco io gli salto alla gola comunque ragazzi prima di iniziare veramente congratulazioni per per la realtà che state creando sono molto fan vabbè non dei cicles però non mi interessa no vabbè sto scherzando però dico comunque veramente ragazzi complimenti non è da tutti metterci la faccia come voi sono veramente veramente entusiasta di poter dare il mio piccolo contributo anche se non so nessuno no devo devo spezzare una lancia però a davide a davidone che veramente grazie a lui diciamo che che mi ha convinto è un ottimo salesman devo dire hai capito azienda hai capito hai capito curriculum no però veramente mi ha convinto mi ha spiegato il progetto comunque siete due ragazzi molto tre ragazzi comunque molto intraprendenti sono sono contento di poter dare la mia grazie hai visto tu cosa ha fatto i complimenti allora tu oggi sei venuto al podcast per dare un grandissimo contributo altro che prima ti sei sminuito hai fatto un'esperienza incredibile partiamo innanzitutto da che corso di studio stai facendo ok corso di studio hai finito allora io sono andato a fare io sono stato un anno in cina dove ho preso parte al progetto di doppia laurea tra il politecnico di torino e la tongi university al politecnico di torino la mia triennale in ingegneria meccanica in inglese e poi il terzo anno della della mia di questa triennale l'ho passato in cina per l'appunto a shanghai alla tongi university dove ho intrapreso il percorso di ingegneria dalla manifattura produzione e automazione quindi mi sono laureato in cina a luglio e poi ho concluso il progetto qui a torino prendendo la triennale qui a torino quindi risulto effettivamente aver preso due lauree triennali prima però di aver preso queste due lauree io direi di fare un passo indietro tu sei entrato al politecnico e il primo anno è un po difficile per tutti per te è stato difficile ti sei integrato subito come l'hai vissuto allora assolutamente sì il primo anno più nello specifico il primo semestre è stato veramente molto difficile ma in particolare diciamo per la mia esperienza è stato proprio l'approccio con la lingua inglese io comunque arrivavo già da un background dove parlavo molto bene inglese quindi non avevo problemi però il fatto di non lo so fare analisi fare poi cosa c'è chimica in inglese non lo so mi ha un attimo destabilizzato infatti soprattutto di analisi 1 che comunque ho sottovalutato parecchio diciamo ho avuto i problemi maggiori più che altro proprio anche soltanto nel leggere il libro nei teoremi cose varie tutte queste parole in inglese mescolate con i numeri mi ricordo che ho proprio avuto una paura cioè mi ha proprio fatto paura analisi 1 però poi diciamo dopo aver incominciato aver parlato con ragazzi più grandi dopo aver trovato un qualcuno che proprio mi è venuto lì a dire allora analisi 1 devi fare così così cosà così così cosà ok una volta che ho trovato questa persona che mi ha un attimo tranquillizzato poi da lì è stato tutto in discesa comunque diciamo che il primo semestre il primo anno è stato quello che proprio sottovalutato di più e una cosa che mi sento di consigliare e ragazzi non date ascolto poi vabbè dipende anche da da come vi sentite voi però non date ascolto alle persone che dicono accettate tutti i voti ok interessante questo è un punto chiave perché io ho rimpianto parecchio questa cosa perché all'inizio comunque non sei nessuno cioè veramente tu arrivi al poli sei uno scappato di casa quindi diciamo cerchi i primi appigli no cerchi di cerchi tutti i pareri possibili no e io boh sono incappato in questi pareri dell accetta tutto e porta a casa che comunque e valutando anche il metodo di studio che avevo allora che non era per niente solido e mi sono ritrovato in una situazione dove pensavo di di star facendo bene comunque di dare il massimo in realtà ero al mio un per cento di potenziale no perché stavo studiando male non sapevo studiare e quindi mi sono ritrovato in quella condizione di accetta tutto accetta tutto e boh ho accettato tutto però poi mi sono pentito amaramente perché poi dal secondo anno già i miei voti hanno iniziato ad impennarsi molto di più e quindi per magari dei 18 che ho accettato così li avessi rifiutati adesso sei riuscito con un voto ancora più alto di quanto sono uscito e quindi tu all'interno poi del politecnico durante il primo il secondo anno hai scoperto di questo progetto no io in realtà in realtà ho fatto una chiamata allucinante una col tipo al casino nel senso avevo scritto boh il politecnico gemmellato con l'università a tongi in cina e qualcosa negli stati uniti poi si vedrà punto 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 e sono andato e infatti ah predict quindi predict di brutto io sono entrato per quello che l'ho fatto in inglese perché volevo assolutamente fare quello e una volta che sono entrato lì ho lavorato da subito con i bandi e cose varie per cercare di entrare e ce l'ho fatta quindi ne andavo fiero è un grande flex spero di non risultare un po troppo spocchioso però ho fatto la call al liceo e sono riuscito a concluderla quindi sono veramente contento di questo ok come funziona proprio questo percorso di appunto erasmus diciamo che questo progetto esiste già da tanti anni però è da dopo il covid che è cambiato particolarmente quindi noi siamo stati i primi a farlo con questa modalità no e tu ti devi scrivere più o meno intorno a novembre ad april escono le graduatorie e poi a verso giugno c'era un piccolo forse disturbo un tuono no 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 è chiusa la porta ad april escono le graduatorie e poi a giugno proprio effettivamente sei stato assegnatario o meno e la differenza dal percorso di studi proprio di ingegneria meccanica triennale avviene dal secondo semestre del secondo anno perché viene aggiunto un corso in più bello pesante tra l'altro si chiama macchine termiche che è praticamente l'insieme di meccanica applicata e termodinamica messo tutto assieme in un esame e il punto è che questo esame qua si dà il terzo anno secondo semestre io l'ho dovuto dare il secondo anno secondo semestre e poi visto che siamo stati i primi a fare questo progetto da un po' di anni ce l'hanno detto ad aprile che avevamo questo corso il corso è iniziato a gennaio febbraio tipo no ci hanno detto ad aprile e quindi il professore comunque è stato buono ci ha preso un attimo sotto la sua ala ci ha detto ragazzi dovete fare questo così così cos'ha ci ha un po' aiutato e comunque l'ho passato però è stato è stata una bella botta mentalmente poi comunque in quel semestre lì il politecnico ci ha anche fornito le lezioni di cinese quindi avevamo cinese poi quell'esame lì che era di sbarramento per andare in cina poi dovevi avere almeno tot cfu bla 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 e diciamo che la sessione estiva del secondo anno secondo semestre è stata bella bella power per me quindi è stata è stata bella tosta però però è andata bene quindi oltre a questi corsi hai anche avuto un corso indirizzato sul cinese giustamente dovevamo passare era di sbarramento l'esame di cinese vabbè ma comunque nel senso a 1 però ci ha dato una grossa mano già all'inizio per non essere proprio completamente spaisati in cina si va bene non capivamo niente comunque però ho capito almeno i numeri almeno cioè come stai ciao così via quindi parlando dello spa esamento e sul fatto che il politecnico comunque ti ha dato una base per iniziare ad orientarti in oriente cosa hai trovato nel senso arrivi all'aeroporto e che cosa ti trovi davanti appena arrivato è stato è stato veramente un inferno perché sono arrivato i primi di settembre e i primi di settembre è la stagione che fa più caldo in assoluto c'è il 99 per cento di umidità e ci sono 40 gradi di notte non scende sotto i 30 cioè tu uscivi di notte e pativi di notte faceva veramente caldo quasi più di giorno non so in cina senza un condizionatore tu non puoi vivere quel caldo secco cioè che proprio umido praticamente nelle vetrine dei ristoranti di fuori c'era proprio l'umidità ma non era provocata da dentro era fuori cioè madonna è stato un impatto un impatto allucinante poi comunque io sono stato un anno lì in cina e durante quest'anno da settembre fino a luglio è cambiata completamente è un paese che si evolve alla velocità della luce mi ricordo appena arrivato di fianco all'aeroporto c'era giusto un cantiere e quando invece sono ripartito effettivamente avevano costruito un viadotto intero a sette corsie in neanche un anno poi non era così aperto il mondo di alipay alipay che cos'è posso paragonartelo un satis pay no però in cina è obbligatorio e tutti devono averlo e ma no è semplicemente un metodo di pagamento e non c'era ancora il desk di alipay all'aeroporto quindi non potevano aiutarti a farlo in pratica noi siamo arrivati lì con 150 200 euro in contanti cambiati però cioè lì bastavano quei 100 200 euro non lo sapevamo poi comunque siamo arrivati a scaglioni no e i primi che sono arrivati se non ricordo male comunque eravamo proprio stati io il mio conquilino giovanni saluto giovanni salutone giovanni e anche lui come me diciamo non era proprio super preparato sull'oriente quindi noi siamo arrivati lì con i soldi contanti e boh qualcosa faremo no ci siamo fatti dare questo indirizzo proprio in cinese una stringa di caratteri l'abbiamo fatta vedere al tassista portaci a casa arriviamo ci aspetta questa vecchietta col suo motorino mimi noi avevamo due valigie a testa da stiva da 23 chili ci siamo dovuti fare tipo un chilometro a piedi sotto il sole 500 gradi vabbè stati fatto che comunque arriviamo in casa e ci sono gli scarafacci in casa è tutto sporco ci sono tre dita di polvere su qualsiasi cosa tu immagina la nostra faccia mia di giovanni siamo arrivati abbiamo guardato la casa eravamo così e adesso guardati e ma che cazzo facciamo veramente è stato catafratto è stato un momento è stato un momento non so non so veramente veramente ho detto di nuovo metteremo metteremo il dollaro ogni veramente che dici il social credit counter qua in basso bello bello mi piace bell'idea tubo tra l'altro io avevo il credito sociale in cina cioè tutti i cittadini io effettivamente dopo aver fatto il visto anche il permesso di soggiorno io tutti gli effetti un cittadino cinese quindi noi avevamo il credito sociale e ce l'aveva fatto vedere la mia professoressa non ho capito come funziona che cos'è esatto come funziona è un indice per valutare tipo l'andamento del cittadino una cosa del genere sni però molto più nell'ambito finanziario ed economico però comunque c'entra anche la parte proprio legislativa quindi anche come ti comporti come diciamo è civile sì sì è un counter totale di di tutto tipo ise più fedina penale le stats drdr2 online sì sì è una roba simile e noi avevamo il nostro credito sociale lo potevamo controllare su alipay il mio social credit era di 748 i cinesi quando si iscrivono partono da 600 noi ci siamo iscritti e poi siamo partiti da 748 infatti potevamo equità equità potevamo derubare una banca e scendere a dicere no adesso scherzate però comunque poi mi dica sta cosa di 5 punti in un videogioco letteralmente no però vabbè guarda che alla fine è semplicemente un indice anche qui in italia alla fine se non rispetti i finanziamenti comunque non ho idea di cosa ti succede però cioè vieni soggetto a qualcosa sì 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 ci sarà una pena qualcosa però sì tutti la vedono come se fosse george orwell grande fratello e cose varie però in realtà non si avverte per nulla come roba cioè anzi non mi sono mai sentito così tanto sicuro proprio nel girare per strada nel vivere in casa lasciare la porta aperta di casa dimenticarmi le cose magari qua vai in metro non lo so guardi ti guardi un po intorno di là di su di giù lì invece stanno tutti nel loro vabbè tra cinesi ovvio noi che poi particolarmente io che avevo tra l'altro in quel periodo lì non mi tagliavo i capelli in cina per ovvie ragioni sono riccio siamo ricci e per ovvie ragioni non volevo diciamo un taglio proprio rasato quindi ho proprio fatto questa scelta per un anno non mi sono tagliato i capelli infatti io giravo praticamente con un pallone caparezza sì 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 biondo quindi tutti mi guardavano come un extraterrestre mi facevano le foto l'angelo che mi chiedevano le foto le foto sì 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 ma è normale questa roba in cina se sei europeo comunque in generale straniero ma del tipo che magari questo è famoso oppure no 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 se tu vai se tu vai sulla via principale a shanghai e rimani fermo lì per dieci minuti ti ferma la gente fa io bro sorry can we take a picture together è strano l'accento cinese in inglese non lo sapevo fosse io bro i want a picture with you come on e quindi aspetta perché sei arrivato lì con giovanni giusto avete aperto la porta vi siete trovati le blatte davanti e cosa avete fatto l'iran cazzi traduttore c'è anche la foto di noi alla landlord alla padrona di casa che le abbiamo detto guardi per favore pulisca faccia qualcosa noi paghiamo anche di più per favore vogliamo soltanto evitare le blatte per favore per favore e quindi lei ci ha trovato la donna delle pulizie ma lei cioè come ha reagito come se fosse normale oppure ha chiesto scusa ma lei un po' contraddetta cioè un po' guardato come per dire ci rompono anche i coglioni questi italiani infatti cioè pensate questi vengono vogliono pure che puliscono la casa no no raga ma veramente poi in cucina avevano trovato delle robe era tutto con due dita di olio non so che che cazzo facessero lì prima però veramente ragazzi poi in bagno in bagno c'era c'erano tipo i moscerini incrostati sul tetto cioè sul sul muro sul soffitto il fatto che fosse tanto sporca l'avevo patito subito infatti io mi ero fatto un diario di bordo a inizio inizio avventura e la prima frase che ho scritto è voglio tornare a casa io non ho disfatto la valigia per tipo due settimane perché ero pronto a cambeccare però allora non tutti i miei amici i miei colleghi del politongs la pensano così io e giovanni la pensiamo così quindi posso parlare per me giovanni certo certo però anche un'altra nostra amica che lei era già cioè lei parla proprio cinese era già un po più abituata no vabbè non abituata però comunque aveva un po più magari era un po più orientata verso la cultura verso l'oriente verso l'oriente e anche lei si è trovata proprio malissimo anche lei voleva subito tornare a casa poi vabbè io sono uno che ha lo stomaco particolarmente debole e arrivare lì anche col traduttore non capisci che cosa cosa stisse mangiando e si è un po una scoperta ma io mi ricordo dopo che siamo arrivati in casa blatte bla 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 ci ha cacciato fuori siamo andati a mangiare il nostro primo pasto nel ristorantino di fianco casa vediamo l'immagine dei ravioli prendo i ravioli ci porta i ravioli con sopra questa roba marrone vabbè assaggiamo burro d'arachidi sui ravioli sui ravioli cattafratto burro di arachidi e loro piace infatti poi dopo io ne ho parlato con alcuni cinesi ho detto guarda c'è un porto burro di arachidi buonissimo sui ravioli allora siete messi bene però senti cos'è che ti ha convinto a rimanere ero fiducioso del fatto che queste sensazioni così negative fossero proprio dovute al fatto che ero sveglio da 40 ore non dormivo e faceva caldo e quindi ho detto aspetta ambientiamoci un attimo vediamo un po come si mette la situazione non può essere tutto brutto tutto così perché poi casa nostra era shanghai ma non era nel centro di shanghai shanghai di diametro è tipo 100 chilometri no è enorme shanghai e noi abitavamo in periferia quindi fatti conto noi col taxi passiamo tutti i grattacieli la 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 non si ferma sto taxi no no continua 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 due ore e mezza di taxi due ore di taxi e arriviamo in mezzo a sti palazzoni così quindi è stato ma poi l'università comunque era la vicino era di fianco proprio io da da casa fino all'aula ci mettevo quattro minuti a piedi no cinque minuti ed era effettivamente un'università come vediamo grossa eccetera vi manderò delle foto comunque allora diciamo che io avevo firmato il contratino perché pensavo di finire nel campus di si ping che è quello in centro città fighissimo collegato dalla metro super super figo storico invece no siamo finiti a già di ing che ho detto vabbè dai dove vuoi che possa mai essere sto posto dall'altra parte del mondo per carità super innovativi con delle con delle strumentazioni allucinanti laboratori super all'avanguardia però veramente eri dalla hanno avevano dentro il campus uno scalomerci di treni intero avevano una pista del maglev il magnetic levitation train quello lì quello che fluttua aveva una pista lì sopra poi tipo il dipartimento di ingegneria automotive aveva una pista proprio per testare le loro macchinine poi c'era ingegneria del ingegneria edile che avevano un capannone intero che poteva oscillare quindi ci costruivano sopra le case le testavano effettivamente la loro resistenza ai terremoti wow ed è stato è stata un'esperienza vedere queste cose e mi ha fatto anche rimanere diciamo vedere comunque il campus perché alla fine sono andato lì per studiare non sono in vacanza quindi vedere queste infrastrutture mi ha fatto cambiare idea però però diciamo che ci ho messo un po' per apprezzarle ecco hai parlato di cibo hai parlato di clima di cultura le persone come sono cioè i cinesi abitanti di lì come sono i cinesi non sembra però ti aiutano parecchio sono molto curiosi vogliono proprio conoscerti vogliono interagire con te vogliono soprattutto le persone anziane cercano di parlarti noi avevamo due anziani del condominio ogni volta ci salutavano ci venivano a prendere la spazzatura e ce la buttavano loro wow che grandi ma nessuno li pagava nessuno li cioè semplicemente abitavano lì erano pensionati e venivano lì ogni ogni giorno super sorridenti è proprio il fatto di io lasciavo la porta di casa quasi aperta veniva sta signora che era una sconosciuta prendeva la roba se la portava io chiudeva cioè capito è proprio infatti quello la sicurezza un po' mi manca della cina ma anche a livello di studio come dicevi prima la ti devi solo preoccupare di studiare ma in che senso tipo le aula studio come possono essere ma l'aula studio la library della tongi university immaginati parla l'epipedo di 14 piani con soltanto tavoli aria condizionata e vabbè wifi acqua bagni tutto pulito perfetto e soprattutto sempre trovavi posti anche a tutte le ore del giorno anche durante la sessione c'erano sempre posti e poi era suddiviso ora suddiviso su diversi piani e ogni piano aveva un'area tematica quindi per esempio non lo so io andavo sempre al quinto piano e tu avevi proprio questa scrivania di due metri per per un metro con la tua luce con le tue prese tranquillo ti sedevi lì silenzio totale e io non so quante ore ci ho passato lì veramente c'era una qualità di studio veramente altissima infatti ho avuto dei voti altissimi in cina perché proprio a me piaceva stare dentro la library capito sedie comode c'era sempre posto non dovevo per forza svegliarmi come al poli alle sette per andare a prendere il posto alle otto e poi capito devi sempre buttare un occhio alla roba non puoi andare in bagno e quindi lì invece ragazzi io lasciavo il mio computer il mio ipad tutti i miei appunti lì la notte per il giorno dopo il giorno dopo io lasciavo lì il mio computer le mie cose la notte completamente incustodita ma avevi un sottobanco le lasciavano sul tavolo e lasciava la mia roba lì così e proprio tu non devi pensare a niente solo pensare a studiare e questa è una cosa che che un po mi manca qua invece madonna se mi devo prendere una pausa bagno in aula studio sono da solo c'ho sempre un po un attimo il timore l'occhio di riguardo no perché l'ho visto con i miei occhi ad un mio amico vabbè conoscente gli hanno rubato l'ipad perché lì può passare chiunque cioè mi ricordo ero proprio all'altro vedo sto qua che si avvicina a prendere l'ipad e se ne va però io non avevo capito che fosse un estraneo e l'ho rubato certo poi comunque essendo spazi molto ampi anche facile questo possa accadere poi in generale anche ovunque ma l'approccio professore studente com'è lì perché ci parlato comunque dell'ambiente scolastico professori come sono è una figata perché è come se fossero tuoi amici e loro ci tengono a farti passare gli esami a farti capire le cose per esempio c'era questo professore molto giovane no e lui non parlava così bene inglese però lui proprio ci teneva che noi imparassimo la sua materia lui passava tipo tutte le sere a tradurci la roba in più tradurci gli esercizi in più a fare degli incontri extracurriculari proprio per spiegarci le cose perché lui ci teneva lui voleva che noi imparassimo ed è stata un'esperienza molto bella questa perché proprio parlare con con un professore così quasi come se fosse il tuo amico no che tu vai all'esame e tu sai già che lo passi ma perché lui ti ha voluto cioè è stato dietro tantissimo poi vabbè in cina la frequenza è obbligatoria e vale il 10 per cento del voto ah ah quindi ti instigano anche ad andare esatto esatto poi vabbè ci sono tutte le attività in itinere che anche quelle vale 10 per cento del voto vabbè comunque alla fine l'esame finale vale il 70 per cento più o meno del voto totale ma per seguirti così bene in quanti studenti eravate la mia aula di del corso di machine design era grossa così eravamo io la mia collega italiana il professore wow face to face in totale nell'aula cioè col professore e anche per questo che è stato abbiamo proprio legato legato con questi professori perché la maggior parte dei cinesi non fanno i corsi in inglese li fanno in cinese certo certo quindi anche il numero di iscritti si regola su questa cosa i compagni di classe invece cioè comunque c'era interazione o effettivamente anche allora io in tutti i corsi avevo come collega questa ragazza del politecnico che ha fatto il progetto con me e poi in in tutti i corsi in alcuni si aggiungevano anche dei cinesi dei ragazzi cinesi in altri invece eravamo soltanto io e lei quindi in linea di massima eravamo sempre intorno alla decina massimo minimo io e lei massimo 10 vabbè comunque sono anche numeri diversi è proprio tutto diverso effettivamente professore in triennale non magistrale tenendo conto di questo che in una triennale eravamo in tre in aula capito questo dipende appunto come avevi detto tu perché magari in cina si tende a fare più il corso in cinese senti un po invece rimanendo un po sulla tua esperienza extra universitaria cioè tu finivi lezione e poi rimanevi dentro il campus uscivi hai provato ad andare in altri posti come te la sei vissuta proprio per il fatto che c'è la frequenza obbligatoria e quindi devi passare tante ore e poi soprattutto il fatto di avere questo rapporto quasi di amicizia con i professori implicava anche il fatto di passarci tantissime ore quindi se il professore aveva bisogno di una cosa tu devi prendere andare per carità ci mettevi cinque minuti a piedi però comunque eri quasi sempre reperibile noi avevamo il numero di telefono beh il wechat quindi ci scrivevamo in privato ogni cosa prof ma quindi fa questo ma quindi quell'altro un dubbio vieni fai questo fai quell'altro ok no e occupava veramente veramente tanto tempo quindi io fino a ho fatto settembre ottobre a novembre ho avuto il primo esame abbastanza grosso e lì era molto complicato rispetto agli altri esami proprio in termini di cfu e cose e dato quell'esame lì io mi sono guardato intorno e ho detto cavolo sono andato sono a shanghai sono stato soltanto tre quattro volte in centro sono tre mesi che sono in cina e non ho mai visto tipo la muraglia cinese andiamo e quindi di impeto ho chiesto a giovanni mio conquilino cose varie anche qualcun altro se fossero disposti a farlo nessuno mi ha appoggiato quest'idea e ho detto andiamo da solo prendiamo e sono partito sono andato da solo a pechino e sono andato sulla muraglia cinese da solo quanto ci hai messo da dove eri tu hai preso il treno giusto sì potevo prendere sia il treno che l'aereo però quello che costava di meno era l'aereo ok due ore di volo sono atterrato a pechino da solo tra l'altro a novembre io ho visto il meteo ho detto vabbè dai c'è meno 13 meno 14 cosa sarà mai mi muovo non sto non sto troppo fuori quindi non sarà niente davide arrivo faceva un freddo io non ero minimamente preparato avevo giusto due termiche un cappellino ho detto vabbè dai che vuoi che sia era era sono stato quattro giorni a pechino di cui mezza giornata l'ho passata ad andare al decathlon più vicino a pechino per comprarmi tutta roba termica perché non ho mai patito un freddo così pungente ecco in cina ho provato l'escursione termica più alta perché dal non ho mai provato così tanto freddo né così tanto caldo e quindi mi ricordo che sono andato da solo sulla muraglia e c'era meno 15 di massima no di massima meno 10 però comunque quel momento lì c'era meno 15 freddo freddo faceva freddissimo e mi ricordo che sono andato in questa parte della muraglia che si chiama badalin è una sezione di muraglia che è stata restaurata e tutto dove tu puoi salire tranquillamente questa sezione era ad uno quindi tu salivi da una parte percorrevi la u e tornavi indietro e il tempo medio di percorrenza di questa cinta di mura era tre ore io ce ne ho messa una la facevo di corsa stavo gelando se non mi muovevo morivo congelato veramente però comunque dopo che sono arrivato più o meno a metà del percorso in cima proprio al punto lì che vedevi tutta la muraglia perdersi a vista d'occhio con il nevischio un po che scendeva che era a ghiaccio comunque non lo so è stato veramente un momento magico che proprio sono arrivato e io ho detto cazzo ce l'ho fatta bello poi averlo fatto anche da solo sicuramente da solo no no ma il fatto che fossi da solo che quindi o parlavo con me stesso però con me stesso quindi è stato veramente cazzo ce l'ho fatta e invece il lato un po più moderno di della cina di shanghai shanghai un po la modernità di shanghai mi manca ma tipo cose che non ci sono qua uber no vabbè che lì si chiama didi e non costa niente due o un'ora e mezza di taxi ti costa dieci euro cioè dividire se fai la macchina da quattro la dividi sono niente testo niente testo cioè non so se hai capito bene quante ore di taxi ed io mi muovevo soltanto col didi ed era una figata tu e poi arrivava in cinque minuti non costava niente andavi dovunque quello quello mi manca poi skyline com'era lo skyline era assurdo assurdo perché ogni volta che andavi lì poi vabbè c'erano alcuni punti strategici dei rooftop che conoscevo che tu salivi in cima e vedevi sempre tutti questi grattacieli tipo salivi al sessantesimo piano lì di media salivi dal 35 al sessantesimo piano come niente e ogni volta andare lì e guardare questo skyline era allucinante te lo giuro infatti quelle tutte quelle luci con la modernità un po un po mi manca perché capito dopo che sono stato un anno lì che ho vissuto un anno lì che comunque spesso io andavo a fare queste passeggiate da solo in mezzo a shanghai che tra l'altro consiglio perché è una città dalle mille facce dai mille volti perché non è come molti se l'aspettano è molto internazionalizzata rispetto a pechino che è molto più conservatrice c'è di tutto a shanghai mille caffè poi mille eventi io quando ero lì c'è stato tim cook che ha aperto un apple store molto importante davanti al jingan temple c'è stata la ufc anche che era stata lì comunque degli eventi super internazionali c'è stato anche kairi irving che aveva aperto un suo store da naging road ma dai però vedere lì quanto si muove in fretta al tempo quante cose accadono in una giornata e un po un po mi manca quella velocità il mondo va velocissimo ecco e tipo come metodi di pagamento voi utilizzate una carta no il telefono quell'app che dicevo alipay o comunque anche con wechat potevi pagare e qr code quindi tu ogni volta andavi lì tipo satis pay poi vabbè se eri cinese potevi fare anche l'upgrade con pagare con il palmo tipo un mio amico cinese un mio amico cinese zai lui può pagare con il palmo niente semplicemente c'è uno scanner tu fai vedere la mano ti scala è registrata l'impronta il palmo sì vabbè l'impronta del palmo certo tu fai così paghi e invece tornando sul percorso accademico e scolastico che hai vissuto lì la laurea come è stata allora in teoria il mio percorso doveva essere un anno a shanghai e poi ritornare sei mesi per scrivere la tesi però proprio con il fatto che ero in buoni rapporti con i professori comunque quasi un rapporto di amicizia io ho chiesto un professore detto senta professore ma io mi sto trovando parecchio bene con lei mi piace lavorare con lei ma non è che posso iniziare a fare questo percorso di tesi sperimentale perché comunque avete dei me lo sono un po' lustrato no perché comunque avete dei laboratori formidabili dei materiali incredibili che comunque è vero non è che posso iniziare mi fa sì sì certamente vieni pure ho questo progetto molto particolare e quindi l'ho iniziato però ci ho lavorato tanto su molto di più di quanto si sarebbe aspettato il professore quindi l'ho finito è una certa ho detto al prof prof ma io l'ho finita la tesi cosa facciamo e boh ha chiesto un po' di là la segreteria ha chiesto un po' di su di giù di là mi fa guarda finisci esami il 20 luglio il 24 ti ti proclamiamo ti diamo la laurea wow e in tutto questo a me mancavano due esami al poli per concludere proprio tutto il progetto no e quindi sì mi sono laureato prima in cina che che al politecnico di torino sì assolutamente ed è stato è stata una figata molto particolare diciamo che ci ho dovuto dare molto dentro soprattutto perché era una roba che ripeto nessuno aveva mai fatto io dovevo tornare un altro semestre a fare le cose con calma quindi ho dovuto diciamo ho dovuto insistere parecchio con la con la segreteria con i professori a convincere bla 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 poi nel mentre ho dovuto fare anche delle call con il mio il mio referente qui al poli per chiedere se effettivamente fosse possibile lui mi ha dato carta bianca mi ha detto proprio se tranquillo infatti grandissimo professor pastorelli anche il signor pastorelli lui mi ha dato una grandissima mano e poi soprattutto una grandissima disponibilità infatti devo ringraziarlo parecchio ringraziarlo parecchio il prof pastorelli e quindi tu ti sei laureato quattro giorni dopo aver finito tutti gli esami giusto in cina e poi sei tornato direttamente in italia dopo che si è stato proclamato oppure aspettato un po no ho fatto un tirocinio in cina perché era obbligatorio per laurearsi in cina ho lavorato alla giant biciclette è famosa ah oddio ma c'è anche qui in italia sì sì io ho una giant in italia ok cioè neanche per farlo apposta infatti quando mi è arrivata la proposta di venire a lavorare alla giant ma dai questo ho già sentito è la giant sono andato a lavorare nello stabilimento dove producono tutte le biciclette col telaio in alluminio giant quindi se la tua bici ha telaio in alluminio è prodotta lì è prodotta lì e ho lavorato lì in qualità di assembly engineer quindi dovevamo andare effettivamente lì prendere le misurazioni delle workstation a me era stato assegnato proprio il lavoro del riprogettare ridisegnare la workstation il workplace del lavoratore che prende la bici e la mette dentro lo scatolone quindi sono andato lì è stata una figata perché proprio ci avevo andato la divisa dal badge è stata una bellissima esperienza poi nessuno parlava inglese bene io l'ho lavorato con il chief engineer della fabbrica che era cinese e boh il mio cinese un po' era era così no però lui veramente io non ho mai trovato una persona così disponibile a lavorare con me nonostante non parlassi una parola di inglese lui mi chiamava ma che ma che vieni qua come è poi io vabbè parlo chiavo cinese quindi la parola chiave la capivano e lui mi indirizzava a dire fare questo no poi vabbè tu immagina questa spiegazione in termini tecnici certo il mestiere cioè quello lui mi spiegava proprio come dovevo ridisegnare sta workplace in cinese a gesti però oh te lo giuro ci capivamo che era il potere della dell'amicizia che univa oh e non me l'aspettavo ma chief chang mi ha fatto anche una reference letter che cos'è la lettera di raccomandazione di raccomandazione è una lettera per un qualcosa o qualcuno di referenza generica ok niente semplicemente si è c'è una lettera di riassunto di come ho lavorato di quali sono i miei pregi i miei difetti e del fatto che mi consigliasse a delle aziende bla 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 però veramente lui un patatino te lo giuro non ho mai infatti mi son trovato veramente bene a lavorarci a lavorarci assieme nonostante non parlassi una parola di dici di inglese lui e di cinese io vabbè sì però parlo chiavo però veramente lui proprio mi ha preso sotto il suo braccio mac mac tipo dov'è marco mac mac mi veniva a prendere mi portava perché aveva visto che comunque mi davo da fare e quindi era proprio contento che grande tu hai vissuto un'esperienza molto frenetica in un anno hai vissuto tante esperienze finisce quell'anno torno in italia cosa succede sei tipo l'eroe che arriva in aereo sei uno dei primi ad aver fatto questa cosa no perché io durante quest'anno a gennaio sono tornato in italia oh yes come mai perché c'era la pausa invernale di un mese e mi costava meno con il volo tornare in italia che stare un mese lì andare in vacanza no e quindi sono tornato però io non l'ho detto a nessuno io non l'ho detto a nessuna betrana la mia famiglia non l'ho detto a nessuno quindi mi sono presentato un giorno a casa dei miei amici con il passamontagna ho bussato la porta ma chi è questo ma chi è questo marco no è stato quel ritorno lì a gennaio è stata una botta di adrenalina allucinante perché veramente fare questa roba di stare zitto io ho detto che andavo in vacanza a dubai ma semplicemente perché facevo lo scalolino e quindi avevo fatto lo scalolino avevo postato qualche storia tutti ma sia dubai o dubai a voi bussato la porta ero io ma quello è stata una botta di adrenalina assurda e invece il secondo ritorno quello definitivo niente di che ero già abituato sembrava proprio come se fosse la normalità io ero già ripronto ero già pronto a ripartire dopo un mese senti se ti dovessi chiedere una cosa che ti ha dato la cina la consapevolezza poi vabbè questo qua una frase un po cliché però dico la consapevolezza che niente è impossibile puoi fare veramente non ci sono limiti i limiti ce li hai soltanto tu in testa questa è proprio la consapevolezza quando prendi atto che se tu studi tante ore di fila se tu ci dai dentro dai il massimo al limite ti prendi una porta in faccia però non ti devi arrendere devi continuare a spingere keep pushing keep pushing keep pushing però questo è giapponese non è cinese ed è vero e questa cosa l'ho realizzata detto quando ero sulla muraglia che ero lì ho detto cazzo vedi che se continui a spingere ci arrivi effettivamente se hai un'idea in testa la porti avanti per questo che sono anche contento di essere qua con voi che vi vedo belli belli affiatati vi vedo belli concentrati sul vostro obiettivo infatti vi auguro il meglio ragazzi per noi per noi cioè vale più vale più per noi il fatto che ci sia tu qui che è il progetto stesso perché in realtà sono le persone come te che mandano avanti i cicles e in realtà hai molto da dare tu all'inizio dell'intervista detto che ti sentivi forse magari non proprio appropriato per questo format e invece no invece sei proprio la persona giusta grazie a raccontare un'esperienza incredibile grazie grazie e sicuramente aiuterai anche delle persone che magari si sono sentite persi o che vorranno riprendere questa tua esperienza di farla e sicuramente con queste cose che hai detto tu oggi troveranno un aiuto grande quindi sul serio non sminuire quello assolutamente no ma poi in particolare un'altra cosa che mi ha dato la cina è il fatto che proprio tu non hai bisogno di nessuno se tu vuoi fare una cosa di prendere farla non ti devi non devi preoccuparti del parere degli altri di questo e quell'altro devi farla e se non ti riesce è semplicemente colpa tua non devi dare la colpa ai professori e gli altri semplicemente colpa tua io questa cosa qui l'ho realizzata del fatto di non aver bisogno di nessuno che posso adesso ora come ora potrei anche andare a vivere non lo so dall'altra parte del mondo di nuovo da solo e so che riuscirei a cavarmela ho realizzato questo quando ho avuto a che fare con la sanità cinese sanità pubblica cinese che è diverso da quella privata ed è stato lì un delirio quando sei da solo che ti danno l'esito leggi che nell'esito tipo stai quasi mezzo per morire e dici e quindi adesso che cazzo faccio sono da solo in cina non è che dici cosa faccio chiamo il telefono azzurro cosa ti era successo scusa praticamente mi avevano diagnosticato una roba al polmone come se avessi tipo l'inizio di un tumore una roba ok e infatti cioè tu immaginano io vado all'ospedale perché ho la tosse e questi mi fanno un attack e mi arriva l'esito tutto in cinese no conta che ripeto io non so parlare cinese cioè vabbè sì lo so però non il giusto per sopravvivere non so parlare cinese no mi arriva questo esito tutto scritto in cinese con in grassetto tipo 10 mm per 10 mm in grassetto no finita un attack ho fatto uno più uno e ho detto è una massa tumorale ho detto ma che cazzo è sto 10 mm per 10 mm e poi vai a vedere traduco mi avevano trovato sta roba al polmone non ho capito bla 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 vabbè fine della fiera torno in italia poi a fine progetto è mi faccio i controlli non è niente però lì per lì lì per lì avevo visto sta roba ho detto ma qua ci stiamo scherzando perché poi capito in un ospedale da solo dove non dove nessuno parlava la mia lingua neanche i dottori ma io dico ma cazzo ragazzi comunque un dottore è una persona che studia tanti anni no ma minchia ma almeno una parola di inglese una parola spiaccicata no e quindi lì ho veramente capito che si può fare qualsiasi cosa e non è bisogno di nessuno tante roba un'ultima domanda lo rifaresti rispondi bene rispondi bene calmo calmo sì sì perché ripeto mi ha dato la consapevolezza di che nulla è impossibile che non hai bisogno di nessuno e lo consiglieresti e lo consiglierei perché è un'esperienza di vita non da poco oltre che un'esperienza anche dal lato universitario e accademico volevo dire accademico sì sì marco noi ti ringraziamo veramente tantissimo sei stato preziosissimo davvero preziosissimo grazie ragazzi grazie grazie marcolino invece tu vuoi fare qualche annuncio vuoi sponsorizzare qualcosa no ho imparato dall'ultimo video bravo bravo ciao ragazzi se questa capra ha un iphone 8 nei pantaloni non ci credo anna i can'ti fucking not lo pignostico no 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 Grazie.